Kim.com, al secolo Kim Schmitz, re di Mega Upload e Mega Video, due siti che erano presenti qui su web un po' di tempo fa, che davano la possibilità a chiunque di scaricare interi film e o interi archivi gratis e senza avere problemi di sorta, avrebbe annunciato su Twitter una nuova clamorosa novità relativa al processo che lo vede imputato. Per quanto riguarda la situazione a livello penale, che lo riguarda, l'ex hacker è diventato famoso e imprenditori di successo con Mega Upload e Mega Video, ma anche altri video, ma anche altri siti, aveva infatti chiesto e ottenuto per la giustizia d'Anole Zelandese la trasmissione in diretta streaming del processo che da domani entrerà nel vivo. Dunque, Kim.com, al secolo Kim Schmitz, sarà protagonista di questo processo che potremmo vedere in diretta streaming su YouTube. Gli Stati Uniti vogliono infatti processare l'uomo di 42 anni d'età, di nazionale tedesca, per violazione delle leggi creativa al copyright, per colpa dello streaming illegale, decorato da parte dei due siti, sto parlando in particolare di Mega Video e Mega Upload, che questo uomo possedeva. Grazie per l'ascolto, grazie per la gentile visione, intanto le indagini vanno avanti a Campo Serrato e la situazione per questo uomo sembra quasi aggravarsi. Iscrivetevi se volete, lo passate, fatemi sapere se pensate e lo caro so.